Ben tornati in studio per conoscere la seconda delle liste che presentiamo questa sera ed è con piacere che do un affettuoso benvenuto a Nicola Mattoni in rappresentanza della lista Lega che sostiene alle elezioni ormai immediate del 20 e del 21 settembre la candidata per la presidenza della regione toscana Susanna Ceccardi. Benvenuto Nicola. Grazie, buonasera a tutti i tuoi teleascoltatori, grazie dell'invito. A te di aver accettato. Nicola un impegno il tuo come candidato alle regionali, la cosa non è facile, ma in più anche l'impegno suppletivo che non è cosa di poco conto di coordinatore provinciale. È stata una bella battaglia, la segreteria regionale e nazionale ha voluto che il coordinatore provinciale corresse, dia la sua contributo, io ce la sto mettendo tutta, ho cercato di non far valere il mio ruolo da segretario provinciale perché ovviamente bisogna essere tutti allo stesso paro, quindi tutti mi sono presentato come un candidato consigliere regionali. Sto portando il mio contributo, sto girando i territori, oggi è martedì, quindi sono rimasti 3 giorni, ho girato i territori in lungo e largo, aziende, diciamo che ho consumato le scarpe da ginnastica perché a me piace stare a contatto con la gente, quindi mi piace andare tra la gente, gazebo, i mercati, andare a suonare il campanello, magari dare il volantino di persona, questo vuole dire tanto per le persone che adesso hanno la politica, io chiedo un appello forte a chi non va a votare, quelli che non vanno a votare devono venire a votare perché è importante, perché loro hanno visto nella politica il distanziamento tra Roma o tra Firenze e tra Firenze e i cittadini, questo non va bene, quindi i politici ci devono avvicinare di più alla gente, sia ora in campagna elettorale che per tutto il mandato dei 5 anni. Questa è una cosa che tu senti molto? Io sento molto questo, l'attaccamento alla gente e l'attaccamento a stare vicino al personale. Tu sei in Consiglio Comunale e anche a Cortona, quindi fai anche questa esperienza già diretta con il territorio, in maniera del tuo territorio, eccetera. Cortona abbiamo fatto una vittoria storica perché grazie alla Lega soprattutto, ma devo ringraziare anche gli alleati, Fratelli d'Italia, Forza Italia e la lista civica del sindaco che è futuro per Cortona, però la Lega ha dato il massimo perché ha preso il 20% dentro con 5 consigliari comunali, quindi due assessori che stanno facendo un ottimo lavoro e il nostro sindaco Luciano Meoni che ha fatto un grande lavoro, anche durante l'emergenza Covid è stato lì, lo chiamavano anche sceriffo, però lo sceriffo è servito perché ci sono stati pochi casi nel Comune di Cortona e quindi per fortuna è stato rigoroso, però è servito. Poi si sa che quando uno entra, cambia dopo 70 anni, è normale che la gente magari vede qualche errore da parte nostra, ma perché ci sta, perché ci stiamo facendo, però questi errori sono dovuti anche al cercare di fare meglio di quello che hanno fatto in 70 anni perché noi ci siamo ritrovati tanti problemi a Cortona, quindi ti attaccano gli avversari, io sono una persona molto corretta anche con gli avversari, se c'era fare una cosa bene nel Comune di Cortona non guarda il colore politico, si fa, però gli avversari ogni tanto pigiano anche su piccole banalità e questo magari fai opposizione, ma fai la vera opposizione, non ti attaccare sull'ultima che hanno fatto, ora voglio essere breve, il manifesto, ci sono i manifesti attaccati e loro sono stati messi dietro, ma non è colpa del Comune, i numeri sono quelli e vengono messi lì, quindi si attaccano sulle banalità, attacchiamoci su cose concrete, perché se fai opposizione la fai bene, possiamo trovare anche una quadra e farla per il territorio, se non fai opposizione bene dopo alle fine non ti ascolta più nessuno. Pian pianino, diciamo che è ancora un pochino da digerire magari questo passaggio. Sì, e poi bisogna, devo dire la verità, anche il Sindaco, i consiglieri, i assessori hanno dovuto fare un anno di rodaggio, perché ovviamente noi siamo 5 consiglieri, noi però in particolare siamo 5 consiglieri della Lega che nessuno ha avuto esperienze amministrative, quindi abbiamo dovuto rodare. Forse non me lo aspettavate nemmeno di vincere così. No, in effetti sono sincero, la vittoria, io me la ricordo bene, quella sera è stata strappata per due frazioni, una è Pergo e una è la Pietraia che ci hanno dato fiducia, infatti all'inizio eravamo sotto, poi abbiamo cominciato a salire e dopo è arrivata la vittoria e poi siamo andati a ballottaggio e ballottaggio, è successo quello che è successo. Questo a partire al passato. A partire al passato. Adesso mancano pochi giorni all'altro risponso. Una cosa Nicola, la Lega ormai è un fenomeno diffuso, ovunque sta acquisendo consensi di vario tipo, in luoghi anche abbastanza insospettabili per molte versi, sembra così lontano le primissime, la Lega Lombarda, la Liga Veneta, sembrano veramente passati secoli, mentre invece sono soltanto alcuni anni, chiaramente nell'ordine di neanche 30 anni, 25 anni circa, come fenomeno che si è diventato forza di governo con Berlusconi, più che trentennale per essere sinceri. Come spieghi questo fenomeno? Questa Lega che ormai ha preso una dimensione ovviamente nazionale e quindi ha abbandonato la territorialità, la difesa, i primi slogan a Roma ladrona, ti ricordi che ormai realmente appartengono assolutamente al passato, a un'altra Lega e ad altro. Però questo processo che sembra per molti aspetti anche inarrestabile o perlomeno ancora non è contenuto nella sua espansione massima, come la spieghi? Anche in Toscana? Allora, io voglio partire dalla premessa che la Lega, quella di prima è esistita, quindi la Lega di ora c'è grazie a quella, perché comunque è un susseguirsi di consensi, ovviamente noi bisogna ringraziare sempre il nostro leader Matteo Salvini, perché è lui che ci ha portato qui. Dopo c'è stato l'impegno dei territori, delle varie persone che sono a uno a uno, parlato con varie persone e poi la Lega è diventata una Lega nazionale, perché giustamente bisogna guardare tutto il territorio nazionale, dalla Campania alla Puglia, al Lazio, alla Toscana, tutti uguale e questo ha fatto sì che Matteo esplodesse anche nei territori Toscana, anzi prendiamo più precisamente la provincia di Arezzo, noi abbiamo avuto punte all'europeo, Badia Tedalda esempio, il nostro comune piccolino, abbiamo avuto punte di 45%, quindi zone come Cortona che abbiamo vinto, ma grazie al trascinamento della Lega, quindi è questo che fa vedere la forza di Matteo Salvini, Matteo Salvini ha avuto l'idea brillante di aprire, la Lega deve essere la Lega del popolo, la Lega dei territori, la Lega di tutti i territori, non solo dalla Toscana in su, ma anche dalla Toscana in giù, perché è giusto così e questo ha fatto sì che adesso affronteremo anche le elezioni in Campania, le elezioni in Puglia, l'altro giorno abbiamo visto Matteo Salvini, cito l'esempio di Torre del Greco, era la piazza piena, poi vabbè i contestatori come ci sono a Napoli, a Torre del Greco ci sono anche a Arezzo, c'erano anche a Arezzo, abbiamo visto l'altro giorno ad Arezzo alle 3 e mezzo ancora non era arrivato Matteo nella Susanna, Matteo Salvini nella Susanna Ceccardi, la piazza era semi piena, arriva il leader, la piazza arrivava fino al comune e oltre perché erano tutti per il corso, quindi abbiamo un leader che ha la capacità di tirare sul territorio e poi bisogna riconoscere anche ai governatori, tipo Zaia, che Zaia ha governato bene, Zaia ha governato perché ha avuto in mente una sanità, dove vorrei anche io questa sanità in Toscana, perché noi abbiamo un'eccellenza, il San Donato e vanno aumentati i servizi e magari togliere quella burocrazia che magari per prendere una visita, una piccola visita ti danno 12 o 16 mesi e magari ti mandano a Grossetto o a Siena, no questo no, bisogna avere meno burocrazia e la gente che faccia la visita se serve velocità e questa è stata la battaglia anche di Zaia, visite veloci, semplificazione, invece noi abbiamo ancora grossi problemi in Toscana, questo secondo me è voluto dire anche dal mal governo di 50 anni della sinistra e dopo 50 anni è giusto provare a cambiare, abbiamo cambiato Cortona, abbiamo cambiato Castiglione Fiorentina, abbiamo cambiato Montevarti e i risultati ci sono stati, quindi cambiare la Toscana siamo pronti. Hai un'espressione, tu ovviamente non ti vedi, ti vedrai nelle repliche dopo eccetera, però hai un'espressione come dire, sono segretario provinciale, io più di così che devo fare, troppo forte Nicola, ma lo capisco, immagino davvero che sia una, chiaramente una soddisfazione non indifferente, questo va da sé chiaro, però la consapevolezza Nicola che tante persone di territorio, l'ho detto prima, inaspettati anche, che alla fine la maggioranza è quella che vince, per cui se la maggioranza di quel territorio dice ok, questa è la proposta politica che ci convince, poi parla di numeri e Cortona lo dimostra sotto questo aspetto. Cortona è l'esempio, perché dopo 70 anni però possiamo citare altri comuni che nel percorso, io sono diventato iscritto alla Lega dal 2014, militante dal 2015, quindi tra militante e tra tanti militanti ho visto crescere questa Lega, è quello che mi conforta, a me mi interessa che la Toscana cambi colore, cambi perché bisogna provare questo cambiamento e la Lega lo ha dimostrato sia in Umbria che in Friuli, Venezia e Giulia, che in Veneto con i Presidenti delle Regioni e tanto come la Lombardia, quindi è giusto di provare questo cambio e dico l'appello soprattutto a chi non vuole andare a votare, l'elettore andate a votare perché è importante, è importante. Certo, questo l'abbiamo più volte anche sottolineato nelle nostre chiacchierate, non si può a prescindere, non si può rifiutare questo nostro diritto. Io penso che dove abbiamo cambiato abbiamo fatto un grosso percorso, Cortona è stata una delle ultime a cambiare, però come dicevo prima Montevarchi, Capolona, abbiamo Prato Vecchio, abbiamo Bibbiena, quindi abbiamo tante realtà cambiate, anche piccole e quindi è l'ora di provare a cambiare il territorio, vuole dire che ci stanno dando fiducia, la gente ha sentito nella Lega il territorio, noi siamo sempre, quello che voglio dire io, come dicevo all'inizio, il politico lo deve fare da ora, in campagna elettorale, durante e a fine, non solo all'inizio e solo alla fine, noi siamo sempre stati nei territori, siamo sempre con i gazebo, anche quando ce lo chiedeva il partito e quando non c'era neanche bisogno che non c'era un'elezione, siamo sempre stati in mezzo alla gente e questo sono più degli slogan politici, proclami grossi, questo ho voluto dire di più. Cosa ha Susanna Cercardi di particolare per cui votarla? Susanna Cercardi è una ragazza competente, una donna molto forte e una donna soprattutto che ha fatto il Sindaco, quindi secondo me sa come si amministra, per poco però ha fatto il Sindaco e l'ha fatto anche bene, ha dato priorità agli italiani, ha cambiato il metodo delle case popolari come è stato anche qui a Rezzo con la nostra senatrice Tizia Manisini, non che assessore e quindi Susanna viene dal territorio, la prima cosa che ha fatto Susanna a Cascina è una banalità, però è andata a pulire i tombini con gli assessori, i tombini che magari sembra una cosa banale, ma quando piove la città si allaga e non è bello, quindi quella… Non è bello ed è pericoloso. Ed è pericoloso e quella è una cosa che ha dato forza alla Susanna, anche una piccola cosa, però a lei vuole dire che gli piace stare in mezzo al territorio. Oggi l'abbiamo avuta a Cortona, siamo andati da MB Elettronica, l'azienda di Banelli e poi abbiamo fatto un pranzo alle 13.30 a Cortona e nonostante non avendo pubblicizzato niente internamente a noi, gente l'ha saputo, abbiamo avuto rispettando tutte le misure Covid che più non si potevano prendere, 60 persone a pranzo con Susanna. Questo è quello che riempie il cuore. Come immagini Nicola la Toscana nella prospettiva per te assolutamente favorevole della vittoria di Susanna a cercarti? Io immagino una sanità migliore, io parlo della mia provincia, perché sono in provincia di Arezzo, quindi aumentare il San Donato, dargli più visibilità e togliere tanta burocrazia, gli appuntamenti, appuntamenti brevi per piccole visite, andare sulle infrastrutture, perché le infrastrutture noi ci mancano, un treno che parte da Arezzo e arriva a Poppi, io ci sono andato senza fare tanta pubblicità e glielo dico, il treno del Casentino è veramente anche perché porta anche i studenti, quindi infrastrutture confortevoli, aumentare le infrastrutture, arrivare in punti dove non arriviamo. Posso parlare del… perché no? Io non ho problemi della caccia, perché l'altro giorno ho fatto un comunicato sulla caccia, senza io sono uno che dice ai cacciatori diamogli l'opportunità di cambiare il modo, anche di dare… il cacciatore può diventare anche… magari si perde una persona o c'è un bisogno di qualcosa, il cacciatore comunque controlla i boschi secondo noi e poi dare al cacciatore magari rispettare delle regole, come succede in Trentino, come succede in queste cose, in Trentino addirittura fanno anche i taglialegna, quindi secondo me questo anche comunicato che ho fatto l'altro giorno non è contro gli ambientalisti, anzi è un aiuto sia per i cacciatori che per gli ambientalisti, trovare un punto in comune e questo può essere un'altra soluzione. Poi posso dirti per quanto riguarda l'edilizia popolare, andare a istituire un fondo di garanzia, una cosa che mi voglio impegnare, un fondo di garanzia per in modo che ci sono quegli affittuari che non possono pagare, andare a ricoprire in modo che i proprietari non rimangano scoperti, perché a volte si vedono i proprietari che rimangono scoperti e nessuno gli dà una garanzia e quindi un fondo di garanzia per aiutare magari chi non può pagare in quel periodo magari un'emergenza come c'è stata, speriamo che non ritorni più, però può essere utile per andare a coprire anche i proprietari. Uno degli slogan usati era prima gli italiani, ora in questo caso prima i toscani? Prima gli italiani, prima i toscani, prima gli aretini, quindi per noi la priorità è questa, prima i toscani, ovviamente sì, perché se io ho tre bambini prima aiuto i miei figli e poi giustamente se c'è sicuramente con un Presidente come Susanna Ceccare li troveremo per tutti, aiuteremo anche gli altri, però prima noi. Anche una cosa che voglio dire il nostro Matto Salvini quando era Ministro, noi non siamo chi viene dalla guerra è bene accolto, ovviamente gli sbarchi, queste cose qui sono anche pericolose perché a volte vediamo morti sul mare, possiamo evitarli, possiamo evitarli perché possiamo aiutarli al loro paese, logicamente chi viene da una guerra è una necessità, però chi non viene la guerra possiamo aiutarli anche là. Il nostro Ministro, quando era Ministro, il nostro Salvini, lui ha saputo, intanto aveva bloccato gli sbarchi, infatti l'hanno mandato in processo e noi siamo, se processano lui, processate anche noi, per aver fatto del bene all'Italia, quindi questa è l'Italia, la situazione dell'Italia oggi giorno e quindi con un Presidente come Susanna andremo avanti e renderemo la Toscana ancora più rosia. Il tema dell'immigrazione Nicola, chiaramente è un tema complesso che non può essere banalizzato in 30 secondi perché assolutamente ha tante di quella complessità, staccettature, tanta tanta roba che veramente è disonesto intellettualmente ridurlo in pochissimo tempo. Una cosa è certa credo che senza una reale politica per l'immigrazione e di conseguenza anche l'accoglienza che non può essere, ma questo credo che sia talmente ormai patrimonio diffuso di tutti e questo forse è il merito anche di Salvini, anche di avere sottolineato tante volte questo aspetto di farsi carico un po' tutti, non soltanto alcuni paesi, penso ai paesi del Mediterraneo, al nostro, quanto un carico che un continente, in questo caso come l'Europa, più favorito rispetto ad altri deve un po' avere cura degli altri, però favorendone una politica condivisa. Io di Europa non voglio entrare nel merito perché comunque sarebbe ampio… Per lo stesso ragionamento. Però quello che dico io, quando siamo in una comunità, la comunità europea, tutti i paesi si dovrebbero impegnare allo stesso modo, invece è l'Italia che si sta occupando di tutto questo carico, ok accogliere come dice lei persone che vengono dalla guerra, che soffrono, però l'Italia le accoglie 10, la Spagna 10, la Germania 10, invece noi abbiamo questa politica di tutti, però l'Italia pesa perché manca il lavoro prima per gli italiani, per i toscani e per gli arretini… No, no, infatti non si può banalizzare in poche cose perché il tema è talmente complesso che è come se fosse, capito, copri una falla e se ne aprono altri due, quindi ecco perché deve essere un po' vista la, penso no, una politica più di insieme che anche la Toscana farà sotto questo aspetto perché, altrimenti chiudere gli occhi davanti ad una realtà, però con la politica, quindi con le scelte partecipate, le scelte condivise, le scelte nei luoghi giusti, il Consiglio regionale per quello che ci riguarda è il luogo giusto, è il luogo giusto dove poi il Presidente della Regione poi insieme alla sua giunta farà la sua parte, quindi è una battaglia molto tosta. Sì, l'immigrazione non va, è un argomento che andrebbe trattato in un'ora di trasmissione. Assolutamente, ma non basterebbe, così come l'Europa, con la posizione della Lega è chiara, quindi concentriamoci sulle nostre cose, non è una trasmissione di politica nazionale. L'aspetto del turismo anche mi piacerebbe così molto, anche molto, molto velocemente trattare nella prospettiva della proposta della Lega. Tu vieni da Cortona, che è un gioiello, no, mi fermo qui, dai, mi fermo qui. È una perla, una perla tra le perle. Ecco, come creare le condizioni per sviluppare sempre più tante Cortona in Toscana? Allora, la perla è Cortona, ma è anche Arezzo, è Montevarchi, è Montesanzavino, è Castiglio. Ti volevo fare la cattacione delle volezze. Esatto, Cortona, niente, noi io ti faccio l'esempio di Cortona. Cortona ha fatto l'apertura, dopo tanti anni, di Sant'Egidio e del Monte Sant'Egidio e era diventato un bosco. Il Sindaco, insieme alla Giunta, insieme al Consiglio, ha lavorato per aprirlo, l'aperto e abbiamo fatto dei percorsi, già abbiamo visto dei risultati, ciclisti, turisti che vengono, perché magari il turista ora, anche col periodo Covid, noi calcoliamo, ha bisogno di aria aperta. Quindi ha bisogno di aria aperta, quindi ok al museo, però bisogna avere nelle nostre città anche dei bei luoghi da vedere, anche trekking, montagna, bicicletta, passeggiata. E questa è stata un'idea di tutto il Consiglio, ma anche del gruppo Lega, perché 5 consiglieri fanno il suo peso e ha reso Sant'Egidio come era 30 anni fa. Un bel prospetto e poi ora, col momento di Covid, nel prossimo anno ripartiremo, faremo dei percorsi, studieremo dei percorsi anche con le guide turistiche, quindi siamo avanti. Stiamo già progettando il Natale, quindi non ci siamo fermati, ma penso anche negli altri comuni, come Castiglion Fiorentino, come Arezzo, come Montevante, siamo già avanti. Ancora, Nicola, tu la vorresti un po' portare, ti piacerebbe in tutta la Toscana? In tutta la Toscana, e poi farla portare anche dalla nostra Susanna Cercare, che sicuramente verrà letta. Che non si dica che non è la trasmissione elettorale questa. No, no, no. Cosa ti piace tanto di Matteo Salvini? Il suo essere un leader, però un leader è diverso, ci sono tanti leader, ma Matteo è un leader particolare, un leader che non sta su un palco, si nasconde dietro una poltrona e magari qualcuno lo critica perché ha fatto un'assenza e meno in Parlamento, ma lui è amato e lo amiamo perché sta vicino alla gente, è a contatto se te, Matteo con tutti gli impegni che ha, lo chiami e dici, guarda, abbiamo bisogno ad Arezzo, abbiamo bisogno a una poltrona, lui trova il modo, lo fa, nonostante l'altro giorno a Arezzo lo abbiamo visto molto stanco, ma stiamo tutti con te, forza Matteo conquisteremo questa rossa Toscana, proviamo a cambiare questo colore. Questo colore, ma vi vedo proprio molto cariche. Sì, siamo cariche, siamo un po' stanchi, devo dirti la verità, siamo stanchi, io sono abbastanza stanco come ti ho detto all'inizio, però gli ultimi tre giorni le faremo di fuoco, non dormiremo neanche. Ogni campagna elettorale purtroppo è, soprattutto gli ultimi giorni sono molto pesanti sotto questo aspetto, poi quando, e qui i sondaggi un po' parlano, insomma c'è questo odore di possibile vittoria, o comunque di eccellente piazzamento e capisco che le forze sono decomplicate. Siamo a un passo, siamo lì, non voglio fare pronostici perché sono un po' scaramantico, quindi pronostici, siamo lì, siamo lì, c'è tante persone che ci vogliono bene. Non te l'aspettate così? Forse così da avvicinato no, però ci siamo, però ora cominciamo a crederci, abbiamo creduto fin dall'inizio, da quando Susanna abbiamo voluto al Consiglio regionale, il primo partito che si è espresso siamo stati noi della Lega, abbiamo voluto Susanna e quindi da lì noi ci credevamo, però adesso vediamo i sondaggi e quindi siamo lì a battere campo. Di cosa ha veramente bisogno la Toscana Nicola? La Toscana… Al di là di come andranno le cose, però indipendentemente da chi sarà il nuovo Presidente della regione Toscana, indipendentemente? Ha bisogno, guarda, ti dico senza diritte tutte le parole di prima, ha bisogno di una sanità che funziona, una sanità che funziona. Questa è l'emergenza, il punto non… Una sanità che funziona. Noi purtroppo abbiamo… E poi nel modello Toscana è un modello portato ad esempio? Sì, è portato ad esempio, ma mancano come ti dicevo prima la velocità, vediamo in Veneto per fare una visita un mese, qui per fare una visita ci vuole un anno di aspettativa, la stessa visita che fa in Veneto, quindi bisogna anche se è una sanità buona, non ti è una sanità toscana, che va cercata di… degli errori ci sono stati, lo dicono loro e lo slogan loro è la sanità toscana, però la sanità toscana va migliorata, a partire dal nostro San Donato che va aumentato di servizi, di tutto, a partire dall'ospedale della Fratta, a Cortona, l'ospedale del Casentino, pensiamo che l'altro giorno, per farti l'esempio, mi mandano un signore, un nostro iscritto, le foto dell'ospedale del Casentino, la gente fuori che aspettava il sole, perché hanno messo le sedie, è una piccolezza, però hanno messo le sedie fuori al sole, al pronto soccorso, non sto a dire più niente perché ho descritto tutto, ecco ho capito. Questa è una sanità che non piace? Non piace, a noi c'è il modello Veneto, il modello Veneto, Luca Zaia, è stato bravo durante il Covid, è stato ammirato un po' da tocca. E poi i sondaggi parlano già di Zaia, quindi lui è più sicuro di noi, noi ancora per drammatizzare un po', ancora bisogna aspettare fino a lunedì sera. Io penso che tu hai fatto tante cose nella tua vita, anche politicamente, consigliere comunale a Cortona adesso in questa competizione regionale, ti presenti per il nuovo consiglio regionale, chiedo scusa del gioco di parole, quindi si è emozionato, tante cose, però l'essere segretario in questo caso, responsabile provinciale di questo partito credo che ti stia proprio dato tanta di quella responsabilità. Più che altro responsabilità, grande soddisfazione, perché siamo cresciuti bene, avevamo un partito 3 anni fa che contava pochissimi, 3 o 4 anni fa, che contava pochissimi, 4 anni fa, contava pochi iscritti e pochi militanti, siamo passati da 180 a 600, 700 iscritti quest'anno, quindi penso che abbiamo fatto un boom, quindi abbiamo tutti i commissari comunali, hanno lavorato bene tutti, i responsabili organizzativi che sono succeduti, devo nominarli qualcuno perché ho voglia di nominarli e perché hanno fatto un grande lavoro, Alessandro Marra, Rossano Innocenti, ora per ultimo abbiamo Cinzia Santoni che ha fatto, anche lei sta facendo un grande lavoro e quindi il responsabile organizzativo è stato fondamentale per questo percorso di crescita, come sono stati tutti i commissari e spero anche io nel mio poco ho fatto qualcosa. Grazie, davvero grazie Nicola Vattoni per averci presentato così bene il programma della Liga per le prossime elezioni regionali, per il rinnovo del Consiglio regionale, appunto con la lista Lega che sostiene assieme alle altre liste la candidatura alla Presidenza della Regione Toscana di Susanna Ceccardi. Grazie mille, grazie a tutti i vostri teleascoltatori. Grazie. Cari amici, la nostra trasmissione vis-à-vis continuerà anche per domani, è sempre la stessa ora a 21.20, la replica di questa puntata andrà in onda domattina alle 5.20 come di consueto, ma eccezionalmente per motivi tecnici la seconda replica andrà in onda alle 13.20. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti.